Oggi dobbiamo fare il tutorial per questo video mod Istanbul Guys Ho messo pure un coso, ho imparato a farlo perché prima non lo so più fa Allora, andiamo a cercare Dep Game Ecco, Dep Game Play Andiamo nel suo account Andiamo nel suo video più nuovo Clicchiamolo Pubblicità? No Poi andiamo nel primo file Nel primo link Poi facciamo Down to Road Aspettiamo Poi ci fa questo E poi andiamo qua Poi aspettiamo che si scavica Io metto pausa Ok, si è quasi scavicato Aspettiamo qualche secondo Ok, clicchiamo Ma chi si sa ancora? Ah beh, io continuo Poi andiamo Ok Andiamo così Facciamo Aspettiamo che si fa Scusate un attimo Scusate un attimo Ed ecco qua Poi facciamo apri Scusate un attimo E andiamo Qua Aiuto Ok, poi va qua Alcuni Va a fare un'altra cosa A qualità che fa A fare un'altra cosa Alcuni sarà diverso Ci sarà tipo Un coso In cui si sono Tutte le app Cercate Stamboli Guys E fate permettere Stamboli Guys Di fare cose Vabbè, capito Poi Andiamo Poi io qua A me mi è capitato così Ed è così Poi io faccio così Perché a me mi si è un po' Bugato A voi non dovrebbe accadere Ed ecco qua Il nostro bellissimo Mod menù Spero che vi sia stato D'aiuto E ciao Aspetta Non so No No Ok Ok, ciao